Allora, noi rimarremo qui a Genova sotto questa bellissima tettuia che è a fianco alla fiera sino al giorno 24 di giugno. Abbiamo delle giornate in cui non lavoreremo solo il martedì e il mercoledì e gli altri giorni tutti i giovani sono proprio gli spettacoli serali. La guest star, la sorpresa è che sarà presente Paolo Ruffani nelle vestite del direttore del penitenziario. Quindi insomma è un'esperienza anche per lui un pezzo particolare, per noi è molto emozionante perché avere sul palco una presenza come lui, ironico, professionale, sono molto sensibili, insomma a noi ci fa molto piacere questa cosa e ne siamo molto orgogliuti. Per le informazioni io consiglio di visitare il sito www.psychiatrassirvus.com o la pagina Facebook.